Io mi chiamo Stefano Manera, sono un medico, medico-chirurgo, sono specialista in anestesia e reanimazione e ho fatto il rianimatore per 16 anni. Ho iniziato con la gavetta in sala operatoria, facendo proprio l'anestesista, poi mi sono portato subito in rianimazione e terapia intensiva e ho fatto per 11 anni anche contemporaneamente il 118 e lì soccorso. Dopodiché, 11 anni fa, che non mi ricordo più sinceramente, ho incontrato per vari motivi l'osteopatia, mi sono diplomato in osteopatia e da lì mi sono diplomato poi, perché ho fatto la scuola a Torino, che ringrazio tantissimo, la scuola di omiopatia, e da lì è stato un continuo, perché adesso mi sono iscritto alla scuola di psicoterapia e quindi è un continuo fare cose. E negli ultimi due anni, no, negli ultimi due anni ho fatto il medico, poi ho fatto... In questa situazione, insomma. E a marzo, aprile del 2020, era il 18 marzo, e decisi, quando eravamo tutti chiusi, nessuno poteva fare niente, uno stava a casa a girarsi i pollici, ho deciso di partire, oddio, sono fatto 30 chilometri, però di andare a Bergamo in terapia intensiva, dove stavano veramente allestendo rianimazioni una dietro l'altra, ce n'era in quel momento lì, avevamo 100 malati ricoverati di terapia intensiva, quindi un numero che non si vedrà, spero, mai più nella storia. E quindi è stata una roba pazzesca e ho fatto questo. E poi dopo, chiudo, mi sono dedicato, perché vedevamo che, insomma, i malati non venivano curati, e quindi mi sono dedicato un po' a curarli anche a casa. E quindi ho fatto anche questo. Adesso capite perché ci tenevo che si presentasse un attimo, avete capito la mia intenzione. Prego, riparti pure da dove. Va bene, allora, ero rimasto nel dirvi che l'errore clamoroso, imperdonabile, dell'uomo, è senz'altro stato quello di sostituirsi in toto alla natura, di sostituirsi alla natura stessa. Allora, più di dieci anni fa, a Castel Gandolfo, il papa di allora, Benedetto XVI, pronunciò una frase che mi aveva colpito, che ve la dico. Quando l'uomo dimentica la natura e a lei si sostituisce, usurpandole il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di dare la vita e la morte, allora è il momento in cui l'inferno si apre sulla terra. Allora, cancellare la natura dalle nostre vite determina un pericolo, a mio modo di vedere, così denso di conseguenze, conseguenze ovviamente negative, che è destinato ad aprire la porta a forme sempre più radicali, di violenza. E faccio riferimento alla mancanza o alla perdita dell'empatia, per esempio, all'indifferenza, alla mancanza di fratellanza, così come anche alla mancanza di solidarietà, cose che vediamo quotidianamente sempre. E sono trascorsi diversi secoli da quando abbiamo imparato a conoscere l'importanza nei contesti sociali, nei contesti in cui viviamo i virus. Sono passati molti anni, molti decenni, anche perché, e questo sul libro ovviamente lo spiego molto bene, noi conviviamo da sempre con virus, con batteri, con funghi, con parassiti. Fanno parte del nostro microbiota, chiaramente. E la notizia è che non sempre, anzi quasi mai, i microorganismi con cui noi conviviamo rappresentano per noi una minaccia. La peste nera, ad esempio, la famosa peste nera, ci ha insegnato una cosa, ci ha insegnato che i microorganismi sono preesistenti, si moltiplicano e si diffondono solo quando si vengono a creare le condizioni predisponenti. Le condizioni appropriate perché ciò avvenga. E qua faccio riferimento alla teoria del terreno di François Béchamp, che fu in contrapposizione netta con la teoria del germe, perché allora si chiamavano germi, di Louis Pasteur. Soltanto che poi alla fine della sua vita, Pasteur stesso diede ragione a Béchamp, dicendogli è vera la teoria del terreno e non quella del germe. Allora, nel nostro caso specifico, e parliamo evidentemente di questa pandemia, le condizioni, il terreno quindi, sono state dettate esattamente dal neoliberismo. È il neoliberismo che ha permesso l'esistenza di questa pandemia, così come l'abbiamo vissuta. Lo storico William McNeill, nel suo saggio La peste nella storia, rilevava alcune cose, alcune questioni, ancora di grande attualità, quando andò a studiare la peste nera che infuriò nell'Europa nel 1347. E all'epoca, in quell'epoca, i cristiani, a differenza delle popolazioni barbare che arrivavano, si prendevano cura degli infermi, avevano cura dei malati, avevano cura anche dei moribondi. E pertanto, cito, si aiutavano tra loro in epoche di pestilenza, e in quel modo potevano contenere gli effetti della peste. La povertà, una dieta poco varia, la mancanza di movimento, la mancanza di sole, eccetera, ha rappresentato, e anche la perdita, possiamo dire, l'esclusione di quelle, tra virgolette, chiamate superstizioni, no? Cioè, i costumi locali delle popolazioni, perché non è un caso, se una popolazione ha un'usanza, un'abitudine, questa abitudine, questa usanza, non è lì per caso. Soprattutto se è radicata in centinaia di anni, in secoli. C'è un motivo profondo, un motivo storico, un motivo anche igienico, di queste abitudini. E allora, questi grandi cambiamenti furono in grado di trasformare queste pestilenze in veri e propri disastri. Che è esattamente quello che è successo a noi. Un altro storico del XX secolo, Fernand Brodel, ci dice una cosa. Ci dice che la peste, che era chiamata l'idra dalle mille teste, costituisce, in realtà, una costante, una costante nella storia dell'umanità. Le pestilenze ci sono sempre state e sempre ci saranno. Siamo noi che non dobbiamo dare alle pestilenze, ognuno può cambiare il nome, no? Ogni pestilenza ha un nome differente, ma siamo noi che dobbiamo dare, che non dobbiamo permettere alle pestilenze di avere un terreno su cui attecchire. Soltanto che questa storia del terreno pare non interessare assolutamente a nessuno o a pochi. La peste nera distrusse quella che era la società feudale dell'epoca. a causa di una acuta mancanza della mano d'opera, per esempio, le persone morivano e non potevano più lavorare. E metà popolazione europea all'epoca morì, ma anche a causa, e questi gli storici attuali lo conoscono, l'hanno evidenziato, a causa della perdita, della credibilità delle istituzioni, già all'epoca. allora è soprattutto, è soprattutto il timore della perdita, di poter perdere credibilità da parte delle istituzioni, che ha spinto gli stati, oggi, a rinchiudere milioni di persone, contemporaneamente, nei vari lockdown. I governi hanno oggi una paura terribile di perdere credibilità. Anzi, io direi, i governi oggi hanno perso totalmente la loro credibilità. Siamo sicuri che la pandemia non avrebbe assolutamente avuto l'effetto che tutti noi conosciamo e che sta avendo, se non ci fossero stati i tre decenni sciagurati di neoliberismo prima di noi, prima di questa epoca. politiche scellerate, politiche scellerate che hanno rifiutato il dialogo sempre, imponendo una unica possibilità di pensiero, escludendo il confronto, escludendo il dubbio. E quindi, quindi la domanda che noi ci possiamo fare, che ci dobbiamo anzi fare, è se è possibile tornare indietro, se è possibile quindi recuperare la credibilità, anche istituzionale da un certo punto di vista, se è possibile ritornare ad avere quella che noi chiamiamo e amiamo definire una medicina illuminata. È possibile. Allora, credo fortemente, ad esempio, il progetto del Borgo Tutte Vita è un esempio concreto, credo fortemente che il futuro sia rappresentato da un ritorno al passato, da un vero ritorno al passato. cioè il ritorno al passato non vuol dire pensare con sentimento nostalgico ai bei tempi che furono ma come si stava bene quando si stava peggio, no? No. Vuol dire avere a che fare con un recupero profondo, un recupero autentico dell'arte medica. e io intendo arte medica entrambe le due parole con la lettera maiuscola arte medica perché rappresentano realmente un ritorno alla medicina ipocratica. La medicina per definizione non può che essere umana ma come abbiamo visto e come vediamo oggi costantemente purtroppo il panorama è molto è molto differente. Oggi la medicina è totalmente sbilanciata tra la sua componente tecnologica elevatissima e anche buona vorrei dire dalla e dettata governata trainata da tutto quell'aspetto economico finanziario rispetto alla componente fondamentale imprescindibile della cosiddetta arte lunga di memoria ipocratica. Ippocrate parlava della medicina come arte lunga. Anche il professor Ivan Cavicchi un famoso giurista e filosofo italiano ha usato il termine di medicina amministrata cioè quella che noi viviamo oggi non solo oggi già da qualche decennio è una medicina amministrata intendendo quella medicina che è vincolata a seguire primariamente procedure standardizzate esclusivamente con il fine primario di risparmiare soldi. cioè una medicina che gestisce i medici dall'alto che li manovra come se fossero delle marionette imponendo loro un lavoro un pensiero dall'alto facendolo attraverso quelli che sono i protocolli che molti medici tanti medici ai noi eseguono senza minimo spirito critico oppure le linee guida in questo modo il medico è evidente che perde il controllo non è più in grado di controllare perde il controllo sia sui mezzi che impiega sia sugli scopi della sua cura non sa più quale scopi ha nella cura diventando di fatto un professionista tecnico un tecnico esecutivo quindi un medico che pensa sì ma fino a un certo punto perché tanto poi c'è il protocollo che ti salva che ti para le terga e Cavicchi ha detto e lo cito che la medicina amministrata oggi è il più potente mezzo di snaturamento della professione medica e nello stesso tempo è il più grande nemico del cittadino e dei suoi diritti perché alle necessità di cura antepone quelle del risparmio e Cavicchi ha perfettamente ragione gli antichi clinici promuovevano una modalità di pensiero che veniva definita proprio il pensare da medico il medico ha sempre fatto delle domande si è sempre chiesto il perché la medicina funzionale la medicina del perché pensare da medico era un'attitudine cioè doveva individualizzare ogni singolo caso non esisteva la standardizzazione non esistevano le catene di montaggio perché non esiste la malattia la malattia non esiste esiste il malato che è molto diverso ok e allora del malato allora del malato dobbiamo conoscere tutto dobbiamo conoscere la sua storia dobbiamo conoscere il suo contesto dobbiamo conoscere chi è veramente dobbiamo conoscere l'uomo o la donna o il bambino insomma che sono il medico all'epoca consigliava dava dei consigli al malato forse forse lo guariva ma sicuramente sicuramente sempre lo consolava sempre questo significa una cosa molto precisa significa che il medico era presente quindi un elemento fondamentale dell'essere medico dell'arte lunga e di tutto quello che consiste nel fare medicina è la presenza se noi non siamo presenti ma questo vale per tutti i rapporti umani non soltanto tra medico e paziente se noi non siamo presenti ogni relazione è destinata a finire anche perché poi in realtà la realtà dei fatti è che ogni relazione è destinata a concludersi con un addio prima o poi però è buona cosa che questo addio sia compiuto nel miglior modo possibile senza rimorsi senza rimpianti avendo detto essendoci stati prima di tutto dobbiamo sempre chiederci che cosa avvenga prima di tutto siamo noi i malati noi siamo sempre prima di tutto noi malati e dobbiamo chiederci che cosa avvenga realmente nel cuore nella mente di ogni paziente di ogni malato e anche in noi stessi dobbiamo sempre chiederci che cosa succede realmente nella sua mente nel suo cuore quando entriamo in un'esperienza di sofferenza l'essere umano non è un semplice insieme di molecole di meccanismi di reazioni biochimiche chiaramente ma è molto di più così come un medico chiaramente non può semplicemente essere un frigido automa un frigido esecutore di tecnicismi nel tempo attuale lo sappiamo tutti la medicina è stata parcellizzata è stata suddivisa in super specializzazioni ci sono specializzazioni di ogni tipo di ogni caratteristica e allora la medicina illuminata la medicina funzionale la medicina ipocratica deve poter e deve saper ricomporre quelli che sono i saperi deve metterli nuovamente insieme perché la realtà la realtà è ben diversa da come noi la vediamo è molto diversa nella realtà le parti fanno molto più che l'unità la somma delle parti è molto più che l'unità e lo stesso vale per la medicina la somma delle specializzazioni è molto di più che l'unità perché noi stiamo curando una persona che è molto di più che carne ossa e sangue è molto di più una medicina ma pertanto deve porsi al letto del malato attraverso quello che è l'ascolto dei bisogni del malato dei bisogni dei pazienti con grande rispetto appunto con ascolto e con solidarietà perché signori abbiamo in questo mondo un grandissimo bisogno di solidarietà di solidarietà non ce n'è più non c'è più solidarietà qual è l'essenza a mio modo di vedere della medicina possiamo dire penso senza senza timore di errore che la medicina ovviamente non è una scienza la medicina non è una scienza così come ho detto una cosa scioccante che non esistono le malattie ma ovviamente avete capito il significato no? però la realtà è che la medicina non è una scienza è guai a chi dice che la medicina è una scienza vi sta buttando fumo negli occhi la medicina non è una scienza ma è una pratica scientifica ok? basata su scienze chiaramente ed esercitata in un mondo in un mare di valori ma non è una scienza possiamo dire che la medicina in realtà è una pratica scientifica anche debole non è neanche forte cioè non possiede algoritmi certi curare una persona non è risolvere un'equazione matematica se tu sai le regole della matematica l'equazione la risolvi sempre se no devi studiare e la risolvi un paziente no non funziona così noi i medici e chi si occupa di cure di terapia innanzitutto deve essere umile perché deve comprendere che noi viaggiamo ragioniamo soltanto attraverso le probabilità non abbiamo mai certezza non abbiamo certezza di diagnosi non abbiamo certezza di terapia non abbiamo neanche certezza della riuscita della nostra terapia qualora anche la nostra terapia sia giusta e perfetta ne sono troppe le variabili il rapporto medico-paziente da tempo in memore è saldato è consolidato attraverso un rapporto che appunto non presenta solo fondamenta scientifiche che sono fondamentali intendiamoci ma è basata su un'altra frase su un altro motto diciamo modo di vedere latino che è la religio medici cioè la religione medica del dovere c'è un dovere medico oltretutto tale rapporto è basato sulle funzioni curative consolatorie pedagogiche di tutela e si sintetizza in una parola precisissima che è la pietas il medico deve essere dotato di pietas e non altro cioè l'attenzione specifica alla grazie l'attenzione specifica alla sofferenza del paziente l'attenzione specifica alla sofferenza del malato l'attenzione specifica alla sofferenza di chi è di fianco a noi tutti i giorni dei nostri figli delle nostre mamme dei nostri genitori dei nostri compagni mogli eccetera possiamo dire che questa alleanza plurimillenaria tra medico e paziente si è rotta no? si è rotta per quattro grandi motivazioni quattro grandi motivazioni che possiamo ascrivere una al medico o ai medici due anche ai malati tre all'irrompere tumultuoso esagerato eccessivo della tecnologia pensate che non si fa più semiotica cioè non si palpa più la pancia non si percuote più il torace si curano i numeri i pazienti nella maggior parte dei casi la prima cosa che fanno quando si siedono in prima visita quando si siedono da me davanti dottore questi sono gli esami è meglio da dire ma chi se ne frega degli esami gli esami sono l'ultima cosa che guardo proprio non li voglio vedere subito allora e poi il quarto grande elemento di rottura del rapporto plurimillenario tra medico e paziente rappresentato dal grande moloch della produttività di natura neoliberista la medicina attuale moderna è diventata arida è diventata distante rinchiusa in questa torre superba superba veramente dottrinale fatta di dottrine totalmente sorda a quelli che sono i valori reali umani totalmente sorda alle critiche non è possibile criticare nessuno totalmente sorda ai pareri non allineati oggi non c'è più tempo non c'è neanche più patrimonio mentale realmente purtroppo per un'arte medica dove l'esperienza il colloquio il rapporto diretto siano fondamentali e fondanti per riappropriarsi di quella che è da protagonista della professione medica siamo arrivati a un paradosso siamo arrivati a un paradosso assoluto dove ci sono centinaia di medici centinaia di medici che dicono e non se lo inventano perché hanno i casi in mano e supportati da migliaia decine di migliaia di pazienti guariti queste centinaia di medici che affermano che una malattia è curabile si può curare chiaramente vengono tutti tutti quelli che lo dicono presi per matti piuttosto che cialtroni piuttosto che ciarlatani e non gliene frega niente non gliene frega niente vanno avanti per la loro strada è impossibile questa cosa questo perché è esperienza comune che il malato in realtà sia trattato come un numero quando andiamo in molti ospedali non in tutti grazie al cielo però in molti posti insomma il paziente viene trattato come un numero non è più la persona addirittura in molti reparti il paziente viene chiamato con la sua malattia non so se qualcuno ha un'esperienza simile io sì perché li ho visti tantissimi quindi c'è questa cosa ed è chiaro che in questo marasma i pazienti abbiano perso la fiducia nei medici è assolutamente comprensibile perché vedono oltre che perdere fiducia covano un profondo rancore anche un profondo livore nei confronti della classe medica perché la vedono tra l'altro esclusivamente come una lobby ingorda sempre dedita a far soldi o a un guadagno in qualche modo è mai concentrata con tutto quello che ho detto la religio medici la pietà eccetera eccetera mai concentrata sulla bene diciamo primario dei pazienti che sono i pazienti però c'è un altro grande problema sempre dettato dal neoliberismo non è una cosa nata così che è molto grave che ha portato poi la medicina a evolversi verso quella che è la medicina difensiva sempre più difensiva che è la pretesa del risultato e quindi qua io parlo da medico adesso e quindi qua è colpa anche un po' dei pazienti la pretesa del risultato come dicevo prima la medicina non è una scienza si basa sulla probabilità è il risultato io ho una probabilità ma non ho la certezza il problema è che quando poi può capitare non hai il risultato sperato arriva la denuncia e questo è un gravissimo problema c'è proprio la pretesa del risultato quindi questa obbligazione il paziente vuole i suoi familiari vogliono che ci sia sempre la guarigione comunque perché abbiamo perso questo è stato un po' il tema di tante mie conferenze come anche quella dell'anno scorso abbiamo perso il contatto con una parte fondamentale della nostra vita che è la nostra morte noi siamo una società che abbiamo escluso completamente la morte dalle nostre vite e questo è un gravissimo errore questo fa parte del sostituirsi questo fa parte del sostituirsi alla natura che dicevamo prima questo è stato un errore imperdonabile un errore che paghiamo tutti i giorni da qui l'emergere chiaramente di una maggiore responsabilità che tutti noi sentiamo qualsiasi terapia facciamo qualsiasi essere terapeuti noi siamo medico per carità psicologo infermiere osteopata nutrizionista vari operatori e questa è la maggiore responsabilità che tutti noi nel profondo del nostro cuore dobbiamo necessariamente sentire i medici i terapeuti devono acquisire devono innanzitutto a volte chiudere i libri perché i libri sono fondamentali ma devono chiudere i libri i miei libri più importanti sono stati proprio i miei pazienti dai quali ho imparato posso dire la maggior parte delle cose che so chiudete i libri chiudiamo i libri insomma e acquisiamo nuove competenze nuove caratteristiche quelle del linguaggio per esempio quella della comunicazione non posso parlare a una famiglia che magari ha un suo caro molto grave in ospedale o che ha un figlio che ha appena fatto un incidente quante ne ho visti in medichese non è pensabile queste persone fanno già fatica a capire come si chiamano figurati se io parlo a loro con una terminologia incomprensibile alla maggior parte delle persone io li sto prendendo per il sedere queste persone non sono serio perché se io sono una persona istruita e se io sono una persona colta più che istruita e intelligente forse ancora più importante io mi so adeguare a un linguaggio anche semplice così come usare un linguaggio aulico un linguaggio tecnico io per forza di cose devo saper padroneggiare anche un linguaggio molto semplice se non lo so fare vuol dire che c'è qualche problema vuol dire che c'è sicuramente qualche problema quindi il linguaggio noi medici dobbiamo diventare dobbiamo tornare ad essere comunicatori esperti comunicatori scrupolosi mediatori tra i linguaggi questo significa fare mediazione il mio linguaggio sarà necessariamente diverso dal vostro linguaggio per chi non fa il mio lavoro è normale ma così come quando io vado dal meccanico io non capisco niente di quello che mi racconta o dal tecnico dei computer allora è una mediazione culturale noi dobbiamo mediare le nostre culture dobbiamo entrare in registri diversi della comunicazione e allora da più parti io sono un grandissimo sostenitore di tutto questo si auspica appunto come vi ho detto il ritorno a una medicina intesa realmente come arte arte come la signora che fa qua fuori i vasi o chi fa i dipinti arte fondata su un forte rapporto etico sociale antropologico con il malato e questo noi possiamo utilizzare anche delle espressioni specifiche ad esempio la medicina umana la medicina narrativa la medicina condivisa la medicina dell'ascolto fanno tutte parte sono tutte la stessa roba innanzitutto ma fanno tutte parte parte della medicina ipocratica tutte fondamentalmente necessariamente caratterizzate da una sempre migliore comunicazione tra medico e paziente è la presenza che cura questo l'ho già detto lo dirò chissà quante altre volte lo scriverò tante altre volte perché ci credo fermamente è la presenza che cura se noi non siamo presenti possiamo essere i terapeuti migliori i medici più dotti ma non arriveremo mai al cuore al cuore non entreremo mai in relazione la presenza che cura la presenza ci mette a riparo anche magari da qualcosa che non sappiamo molto bene i pazienti ci perdonano anche un po' di ignoranza a volte anche qualche scivolone a volte se siamo presenti se invece noi non ci siamo possiamo essere anche lo scienziato migliore del mondo ma non funzioneremo mai e questo è quello che noi abbiamo visto a Bergamo io ho visto a Bergamo e tutti i miei colleghi hanno visto nei loro ospedali quando era terminata totalmente la comunicazione era terminata scusate era terminata totalmente la presenza quando noi tutte le sere dovevamo comunicare attraverso uno smartphone per chi era più fortunato e per chi era vigile oppure semplicemente facendo una telefonata perché ai parenti non era permesso di entrare ancora una pagina ho paura non era permesso di entrare in terapia intensiva così come negli altri reparti allora noi tutte le sere io avevo mi prendevo spesso questo compito di telefonare a casa parlare col parente chiunque esso fosse il figlio la moglie il marito il padre e comunicare le notizie e loro non potevano e ho visto tante persone morire senza avere la possibilità di essere lì con il loro parente allora dov'è che ero rimasto scusate dobbiamo assolutamente fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto fino ad ora tutto il contrario sappiamo che la persona umana sana ha dentro di sé presenta tutti gli strumenti per proteggersi da quasi tutti gli squilibri ci sono poche eccezioni le poche eccezioni sono chiaramente i traumi gli avvelenamenti eccetera quello non si può rimediare se capita ma agli squilibri sì abbiamo tutte le caratteristiche per poterlo fare e la chiamiamo questa autoguarigione non esisterebbe la possibilità di guarigione se non esistesse la autopoiesi o autoguarigione quindi questo è molto importante sappiamo molto bene anche quanto ogni malattia sia espressione di un conflitto profondo di un nodo irrisolto di un aspetto che non riusciamo magari anche ereditato ma che non riusciamo a risolvere nel qui e ora e che ci incatena che ci rende impossibile qualsiasi movimento allora noi dobbiamo difendere questa medicina dobbiamo difendere la medicina come fosse proprio casa nostra perché significa difendere noi stessi i nostri figli i figli dei nostri figli ma significa anche difendere la nostra libertà di espressione la nostra libertà di scelta terapeutica la nostra libertà di cura la nostra libertà di cura dalla nascita alla morte partendo da un presupposto così pare evidente che la prevenzione sia la base necessaria la fondamenta diciamo essenziale su cui possiamo costruire qualsiasi tipo di edificio se noi facciamo una corretta prevenzione abbiamo fatto il 90% del nostro lavoro il 90% possiamo costruire anche un grattacielo meraviglioso altissimo se abbiamo fatto delle fondamenta sane e solide se invece facciamo delle fondamenta che non valgono niente con del cartone anche una casa di due piani crollerà da lì a poco allora dobbiamo far sì che tutti i nostri distretti tutti i nostri apparati tutti i nostri organi funzionino come un'orchestra all'unisono suonando la stessa musica perché in realtà noi siamo musica noi siamo frequenza noi siamo vibrazione e quindi i nostri le nostre cellule di tutto il nostro corpo suonano a quella musica lì ma se un'orchestra ha le corde gli archi tutti stonati tutti scordati appunto sentiamo un frastuono è orribile no? invece si sono tutti accordati se seguono tutti la stessa musica sentiamo delle sinfonie meravigliose questo è raramente possibile con i farmaci chimici è raramente possibile perché uno i farmaci chimici agiscono su distretti molto precisi del nostro corpo hanno delle azioni molto mirate e due perché molto spesso squilibrano anziché riportare l'equilibrio la malattia è sempre una perdita di equilibrio è sempre una perdita di omeostasi e quindi se noi portiamo squilibrio pensiamo agli antibiotici che portano disbiosi nel nostro intestino e la disbiosi genera infiammazione e l'infiammazione genera malattie degenerative malattie oncologiche malattie allergiche eccetera eccetera gli antibiotici non fanno bene lo dice anche la parola stessa tra l'altro quindi antibios dice già tutto e io non prendo un farmaco antibios e dobbiamo potenziare quelli che sono i nostri organi la nostra unità mente-corpo dobbiamo potenziarla mantenendo anche se questo implica chiaramente un lavoro difficile un lavoro duro l'equilibrio ecco perché ho voluto scrivere il libro cervello intestino ho sentito proprio l'urgenza ho sentito proprio l'urgenza di scriverlo ho sentito proprio questa urgenza sembrava arrivato il momento giusto anche per me anche per fare un punto anche per capire fin dove sono arrivato mi sembrava molto utile cervello intestino nel mio modus operandi nel mio modo di vedere corrisponde all'unità mente-corpo io curo il corpo ma amo curare anche la mente ritengo che quando noi partiamo dal corpo possiamo arrivare molto efficacemente alla mente mi rifaccio anche alla scuola bioenergetica eccetera quindi è molto molto importante nel libro ho desiderato far comprendere quanto sia il complesso il sistema di reti che ci costituisce di cui ognuno di noi è costituito e di cui ognuno di noi fa parte perché noi siamo in questo momento chiaramente noi tutti siamo in rete tra di noi stiamo costruendo una rete un'unità con l'intento di questa festa è una rete unitaria è una rete sta dando un intento importante siamo molto forti da un punto di vista energetico eh? ma non ho più voce e nel nostro corpo vivono e ho finito davvero vivono miliardi di microorganismi appunto il microbiota questi microorganismi cooperano cooperano da sempre da migliaia e migliaia di anni e determinano la nostra salute o anche la nostra malattia la medicina illuminata la medicina ipocratica deve fare questo mantenere in salute tutti i sistemi in una visione psico-neuro-endocrina immunologica in cui inseriamo ovviamente oggi va fatto questo passo evolutivo inseriamo anche il microbiota non possiamo più parlare solo di pnei dobbiamo parlare di pnei microbiota è indispensabile farlo il corpo mantenere sano in equilibrio il corpo la mente e lo spirito necessariamente abbiamo molte armi preventive adesso qua taglio un attimino abbiamo molte poi magari le domande però abbiamo molte armi preventive corretto stile di vita adeguato stile di vita adattato sulle caratteristiche individuali delle persone qualche ora fa ha parlato il mio caro amico Giulio Ranalli ha parlato delle vitamine e questo è molto importante però devono essere sempre individualizzate la prevenzione va sempre individualizzata così come va sempre individualizzato l'apporto dei probiotici mai dati così una terapia che si basi sulle caratteristiche specifiche della persona come fosse un abito sartoriale una vita sociale sana una vita sociale fatta di incontri in stretta comunione tra di noi con una vita interiore molto ricca noi dobbiamo permetterci di avere una vita interiore molto ricca e quest'ultima attività permettetemi di dirvelo per me rappresenta l'aspetto più importante per quel che riguarda la nostra prevenzione quindi dobbiamo fare per forza un vero e proprio dobbiamo redigerlo con persone coraggiose un vero e proprio manifesto un vero e proprio manifesto della nuova visione dell'umanità c'è bisogno di tornare a una concezione umanistica della medicina principi che valgono non necessariamente in una visione religiosa ma valgono anche moltissimo in una visione in un'ottica laica occorre un reagente morale occorre tornare ad avere un reagente morale proprio quello che fa le reazioni chimiche noi siamo chimica anche la chimica tra le persone quando ci innamoriamo di una persona nasce la chimica diciamo occorre un reagente un reagente morale un lavoro pedagogico tenace sui nostri bambini non dobbiamo isolarli non dobbiamo renderli soggetti individualistici il mestiere del medico faticoso difficile e anche angosciante deve tornare ad essere arte della cura sempre condotta tra scienza e valori spirituali è necessario un ritorno alla sanità che sia realmente amica infine ebbene sì è richiesta una piena applicazione della carta costituzionale che è la nostra bibbia civile dobbiamo rispettare la costituzione dobbiamo ricordarci che esiste la costituzione e dobbiamo rispettare la costituzione italiana allora grazie ero in dubbio se finire con una frase del cardinal Ravasi o con una frase del costituzionalista Zagrebelsky finisco con Zagrebelsky che afferma che il diritto alla salute intesa come il più elevato livello dello stato di salute raggiungibile dalla persona è l'unico diritto che la costituzione qualifica come fondamentale a questo mio modesto parere chiaramente e questo scusate ho perso il filo ma questo che dice Zagrebelsky cioè che la costituzione dovrebbe essere il nostro punto di partenza il diritto alla salute dovrebbe essere proprio il fine ultimo dell'arte medica di cui vi ho parlato fino adesso e vi ringrazio grazie 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 Un abbraccio, grazie. Grazie, grazie di cuore veramente, è un onore essere qua, è un onore per me molto forte, grazie. Bene, ringraziamo il dottor Stefano Manera, adesso avete capito perché vi ho detto che ero veramente onorata di presentarlo per la seconda volta su questo palco perché sapevo che le sue parole sarebbero state molto toccanti per tutti noi. Vi ricordo il libro di cui vi ha già parlato, cervello intestino, un legame indissolubile, lo trovate all'info point e potete trovare lì anche Stefano che potrà fare qualche firma e qualche dedica se ci concede ancora un quarto d'ora. Per le domande purtroppo non c'è tempo, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, però potrete incontrarlo nella zona dell'info point e magari fare quattro chiacchiere. Grazie Stefano. È sempre veramente un piacere. Grazie a te, grazie a tutti ancora, a presto.